buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui con me su kbtv ragazzi siamo tornati di nuovo insieme qui su la tv di kb e siamo a lunedì pomeriggio quindi o non beccarlo con troppondini dicevo lunedì pomeriggio quindi abbiamo il consueto dragon ball z ultime ten calci è uscito l'orario dell'università come ho detto anche nel video di ieri vabbè conto le piglie basta è uscito dicevo l'orario dell'università e in particolar modo sono pieno di lezioni dal lunedì al venerdì c'è speranza no 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 e vabbè fai sempre quadrato dicevo non c'è speranza che io possa portarvi così tanti video quando inizierò l'università ragazzi perché vado all'università lunedì dalle 8 di mattina più o meno alle 8 di sera no veramente l'ultima lezione mi pare finisco alle 19.30 quindi veramente riesco alle 7 di mattina e torno alle 9 di sera e il martedì è quasi uguale nel senso che magari devo andare in università alle 10 però torno alle 5 di pomeriggio quindi comunque forse anche più tardi no 5 forse finisco quindi torno per le 16.30 e quindi anche il martedì non riesco a fare neanche un video forse uno la sera lunedì scuso perché sarò stanco morto e il martedì forse uno il mercoledì per fortuna è il mio giorno libero quindi concentrerò lì tutte le mie fatiche il giovedì sono in università comunque a pranzo perché ho un paio d'ore la mattina e un paio di ore il pomeriggio no no fammi fare ah volevo andare alla massima potenza dicevo invece il venerdì invece ho anche lì sono lì a pranzo perché ho non mi ricordo che orario ho adesso però sono lì a pranzo forse ho solo la mattina tipo fino alle 2 e mezza no vabbè sì quindi sì sono lì a pranzo e poi torno a casa ma comunque forse ecco il venerdì riesco a fare qualche video quindi i giorni per fare i video saranno solo il mercoledì, il venerdì, il sabato mattina sono in università quindi risultato... mi sta costando? dite? pochino forse eh vabbè basta cioè ho cinque volte ragazzi ha fatto quattro volte quadrato quattro volte quadrato cioè ditemi se è normale su cinque quattro volte quadrato vabbè eh quindi eh dicevo in tre giorni devo fare tutti i video della settimana quindi direi che proprio è e pestalo per una volta nella tua vita broli fai vomitare non fai neanche la mossa bene bene triangolo ancora quadrato ovviamente minchia ragazzi nooo scusate 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 questa volta non volevo non volevo solo che vabbè è uscita vabbè qui intanto muoio probabilmente no forse non muoio per miracolo me la fai una... eh vabbè me la fa lui vabbè basta questa sfida l'ho persa mi dispiace chi è che me l'aveva fatta mi dispiace però vabbè non l'ho fatto apposta ovviamente non l'ho fatto apposta eh dicevo gli unici giorni che ho per fare i video che tra l'altro il mercoledì essendo il mio giorno libero probabilmente starò anche un po' eh insomma in giro nel senso di sicuro non sarò attaccato tutto il giorno qui comunque sono il mercoledì il venerdì il pomeriggio il sabato e la domenica quindi in quattro giorni il sabato pomeriggio e la domenica quindi alla fine in tre perché ho due pomeriggi e due giorni pieni eh devo riuscire a fare tutti i video il che è veramente eh difficile farne così tanti nel senso ora ve ne sto portando non so penso 15 a settimana ecco invece lì vi porterò giusti giusti quelli che fanno eh la la cosa lì la come si può dire come si può dire che completano diciamo la programmazione e basta tra l'altro non ho ancora scelto un giorno per GTA ma adesso lo scelgo penso che eh dato che l'ho comprato quando l'ho comprato? lunedì? potrei metterlo lunedì mattina cioè voi se lo vedete magari l'avete già visto perché io sto facendo video questo ma probabilmente avete già visto stamattina GTA se l'avete visto vuol dire che lunedì mattina è il giorno di GTA se no lo metto a Martubi comunque vedremo ragazzi perché veramente l'università quest'anno potrebbe essere devastante nel senso che come ho detto come ho detto potrebbe occuparmi una quantità di tempo esagerata ecco quindi allora parti sempre tu adesso faccio triangolo oh come prima però prima vinceva lui no vai no senti Goten da quando è che sei così vabbè eh appunto mi occuperà così tanto tempo che vabbè io intanto vado a vatti a pestare tutti eh no tutti no spero di pestare Gohan almeno non voglio prenderli anche da lui speriamo di riuscire a portarvi tutti i video che desidero portarvi ecco perché come sapete io ci tengo a portarvi tanti video però se proprio non ho tempo allora sei proprio oh ma allora sei proprio buccato nel cervello Gotenks non ho capito perché ma perché non ne pari neanche uno niente ragazzi non non para giuro un co cioè ho fatto tondo non l'ha parato ho provato a fare quadrato per attaccare si è fatto dare il primo pugno ho provato a rifarlo si è fatto dare il secondo pugno poi mi ha pestato lui vabbè va bene ah si forte eh bravo mo mi fa la mossa perché ovviamente dopo che ti fa tre volte quadrato ti riesce a fare la mossa oggi non è giornata mi sa eh oggi mi sa che proprio non è giornata da Dragon Ball non so perché ma veramente le sto pigliando come poche cose para non para ragazzi avete oh ero ero cioè l'ho detto tre ore prima che arrivassero le ondine vabbè e andiamo avanti cosa vi devo dire oh non ho boh non so cosa dirvi questo mossa allontana ma mi fa guarda no non può fare la mossa per fortuna eh dai un pochino l'ho guadagnato non vedo niente se mi fa le onde non le vedo dai che metodo di caricarsi è che non vedo una boia di niente fai fai qualcosa eh ovvio ovviamente lo manco triangolo para tutto bravo oh oh miracolo eh ovviamente c'è un miracolo vabbè festiamoci ancora festami ancora cioè ero riuscito per miracolo no non l'ha neanche parato ho fatto qua tom don call ma mi sa che c'è un giusto i crotto ragazzi non l'ha parata nemmeno questa no 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 non ci siamo non ci siamo proprio fagliela no è dovuto andare lontano c'è niente ha vinto anche questa bene para ma non para va bene quadrato vai per una volta facciamo un quadrato ovviamente lui ha fatto triangolo cioè l'ho fatto 106 mila vabbè ragazzi ho perso due sfide su due penso che non succedeva da vanno fine sono rimasto sono rimasto malissimo cioè non ho parole ho parato tutto quello che potevo parare non me ne ha parato uno di colpo ciao gothanks no forse forse sono vivo morto cioè eeeh alee super masenko boom vai così va bene proviamo cioè l'ho respinta non ci credo fuori di testa no 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 fammi parare ma no ragazzi non ne ha parata una è improponibile io provo vabbè va bene basta due sfide su due perse non succedeva da secoli ma a quanto pare è successo mi dispiace non so perché ma è andata così va bene addio